Questo frantoio quanti anni ha? Ma guardi, a livello documentale ritroviamo il frantoio della tuta gara della pieve già segnato sulle carte nel 1852. La struttura è molto più anziana, tant'è vero che è compresa all'interno di un podere con cui il toponimo è Le Sanze, quindi si presume che già dal XVIII secolo comunque il frantoio era presente. E' anche perché l'azienda ha sempre coltivato olivete e quindi è specializzato in questo tipo di produzione. E' un frantoio tradizionale, che significa? E' un frantoio tradizionale perché in pratica è il classico frantoio con il ciclo di lavorazione a macine, presse e separatore. E' un separatore centrifugo a un ridotto numero di giri che permette comunque di poter lavorare in filiera con un controllo della temperatura e quindi si parla di spremitura a freddo, di mollitura comunque a freddo, quindi un processo che non supera i 22 gradi di temperatura, che non supera abbondantemente. Non è così usuale trovare un'azienda che ha anche un suo frantoio di proprietà, che ha questa storia? Certo, non è non usuale anche perché ovviamente è un tipo di lavorazione molto tradizionale ma ovviamente ha anche i suoi costi, è un frantoio non facile da gestire per ottenere un olio di qualità e quindi rappresenta un po' la nostra tradizione e rappresenta anche un po' la nostra voglia di mantenerla viva all'interno della nostra azienda.